Abbiamo l'incognita ormai annuale dell'aeroporto che vede questo imprenditore Alcom che ha vinto la gara ormai da un anno e mezzo che ancora non ha fatto partire neanche un aereo, ha assunto qualche persona ultimamente perché l'Einac gliel'ha imposto, non si sa che cosa succederà nei prossimi mesi, abbiamo notato che le istituzioni e comunque il mondo economico del territorio non ha più molta fiducia nel futuro di questa infrastruttura, vedremo nelle prossime settimane che cosa succederà. Come si sta muovendo il sindacato a riguardo? Il sindacato in questo momento ha fatto una commissione che assieme alle istituzioni, cioè ai soci che erano di SEAF, sta cercando di ricollocare i lavoratori che erano rimasti a casa, cercando di vedere sia nelle aziende partecipate dalle istituzioni sia nelle aziende del territorio, quali sono le opportunità adatte ai curriculum professionali di quelle persone che erano dentro l'aeroporto. E qui parliamo non solo dei dipendenti di SEAF, ma parliamo dei facchini, parliamo di quelli del bar, parliamo di tutti i dipendenti che erano coinvolti nell'andamento dell'aeroporto e che sono rimasti con un pugno di briciole in mano. Anche perché tutti ci eravamo illusi il 6 maggio di un anno e mezzo fa che con l'arrivo di Alcom la situazione si potesse normalizzare, si potesse ripartire con i voli, con tutto, con Landry, con tutto quello che ci sta attorno. È passato un anno e mezzo e nulla si è mosso se non quelle 4-5 assunzioni imposte da Enac perché la struttura almeno rimanga aperta. Per cui non sappiamo realmente che cosa possa succedere.